Allora, visto che Dolph Ziggler in WWE non ha mai avuto un push grandissimo, nonostante abbia avuto comunque due, quanti titoli ha avuto? Pochi, vabbè, è stato World Heavyweight Champion due, una, due volte, non mi ricordo quante, però lo hanno trattato di merda, nessuno ne caga più! What's up baby? Cioè, Dolph Ziggler, ci gioco io con Dolph Ziggler, però partiremo dal primo, cioè noi saranno il primo, sarà molto difficile vincere, però io sono fortissimo, quindi incominciamo! Ah, mannaggia miseria! Ok, visto che non ho scelto nessuno in questo Royal Rumble... Allora, adesso sono in controllo di Dolph Ziggler, non mi aspettavo che per secondo veniva CM Punk, oh madonna, no 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 no, fermo, fermo, oh, oh, ehi! E non mi aspettavo manco che stava CM Punk, la cosa che ho fatto è, vabbè, vediamo il gioco cosa ci dà, chi ci dà? Non ho cambiato nessun partecipante, ho fatto scegliere al gioco... Darby Allen... Non mi ricordo chi cacchio è, cioè mi ricordo, però non mi ricordo, vediamo chi è... Ah, e i W, ok, potrebbero uscire veramente qualsiasi personaggio, può uscire... Io ho di tutto nel roster, quindi potremmo vederne delle belle, però dobbiamo focusarsi su... Eh, mannaggia miseria, e dobbiamo buttare fuori tutti quanti, già sto perdendo troppo tempo, uno! E non è vero, no 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 no, non ti parlo, no già, non adesso già, ok, buttalo fuori... Madonna... CM Punk, ho fatto una cazzata, potevo farli combattere insieme... Che cua, grazie Dolph, eh, hit, cacchio di chiamo, grazie, 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 grazie tante... Mi ha salvato il sedere, ma mi ha salvato di brutto eh... Due, tre, ok, 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 Edge, vieni qua Edge, vieni qua, vieni qua, vieni qui Edge... Fai così? No, 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 no... Lo shield? Quale membro dello shield? Dirembro, Roman Reigns, Roman Reigns, ok, il vecchio Roman, ok, va bene, no! Minghe, 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 vabbè, questa è faccia, dai, ci sta... Mr. Macmill, ma che cacchio viene? Vecchio di merda! a parte che non ho visto il tipo mcmahon c'ho quasi 80 anni e sta ancora in ww manco se ne va a cagare via vecchio di merda 1 vecchio di merda macchina e io no non mi non voleva comunque io so già a questa qua la quarta e l'immazzo caiu riley questo probabilmente è stato licenziato non lo so è dovuto pubblicare licenziato così tante persone che non mi ricordo neanche però si credo che sia stato licenziato 1 2 3 oh ma sono una bestia oh adesso 6 7 ok dobbiamo aspettarcelo cell di dragon ball z eccolo qua molto molto bello guarda nella sua splendore però sei perfetto è tutto ma devi andare via cioè te ne devi andare grazie molto tanto è durato molto assai è durato molto tanto assai no 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 bravo edge che l'ha eliminato però sono un coglione di merda bravo 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 via 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 buttalo giù bravo via 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 grazie grazie ok famous volevo fare il bastardo da dietro no non ci sono uscito aspettate un attimo fermo non mi romperò le scatole si è appena entrato vai via state davanti no io io sto targettando lui e mi è niente non posso ma no l'hai contromosso ha fatto ecco super adobe ciao domani dica aiutano mai zig zag ok tutte le persone che potevano capitare proprio lui ma proprio lui c'è mi vorrei buttare giù vabbè giochiamo buttiamo giù persone e poi vediamo cosa possiamo fare non l'ho buttato oppla buttato fuori sean michaels questo è la mia ottava non non mi ricordo quando ne ho fatto sinceramente ciao ciao attenzione attenzione io e diesel john cena john cena il campion vediamo chi piglio koff kingston ok va bene koffi koffi che va bene j uso mannazzo troppo lontano dalle corde john tu te ne devi andare mi dispiace mi dispiace però ma che c'è cacchio ma toglieti dalle palle j uso di merda ho volato nella ha volato cofini questo ne va e niente mi dispiace mi dispiace beh ci sta era da parecchio tempo che riuscivano personaggi strani è uscito goku benissimo però goku mi dispiace però deve andare via ecco come ti permetti l'uomo ok o un cogan a livello quando si vince un cogan io ho resetto tutto rifaccio il video perchè il no non non può non può vincere come impossibile è proprio una cosa nella vita proprio impossibile preferisci che vince carl enderson apposto di un cogan eh non la butterò giù oh 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 è stato facile bene ora mi rimane solo lui io farei così guarda io faccio una bella shock slam e poi lo lancio fuori tanto quello poi cade lo stesso quindi ah ti permetti brutta idiota oh po ciao ciao e che vince la royal rumble allora siamo stati eliminati al numero 14 però con Dolph Ziggler ho fatto parecchie eliminazioni non abbiamo vinto la royal rumble con Dolph Ziggler ma siamo riusciti a vincerla con Kane molto valido come personaggio molto valido e Kane andrà contro John Cena non a Wrestlemania perchè l'abbiamo già fatto però in un main event che probabilmente inventerò io oppure andiamo da un'altra parte e andrà controllo